D'Annunzio che è tra le sue due prime donne, una è la Duse che è interpretata da Franca Minucci che ha anche scritto il testo che andrete a vedere e interpretare e ha voluto fortemente questo spettacolo della Duse appunto e Sara Bernard che è interpretata, ricordata attraverso queste lettere da me in mezzo alla figura maschile di Gabriele D'Annunzio. E' molto interessante vedere questa pseudo rivalitata a queste due donne che in realtà poi si stimavano moltissimo. Erano due donne completamente diverse e io grazie a questo testo ho avuto anche modo di approfondirle un po' di più soprattutto la figura di Sara Bernard che era questa attrice così libera, così artista, così eclettica e così diversa poi dalla Duse che invece era una persona con una sua rigorosità eccetera e quindi devo dire molto bello. In questo spettacolo raccontiamo però un po' la vicenda ovviamente della vera protagonista che festeggiamo, che omaggiamo in questo spettacolo ma anche un po' il periodo complesso e le relazioni complesse tra Sara Bernard e anche appunto Eleonora Duse erano le due più grandi, diremmo coppie Bartali per intenderci, uno dei più grandi artisti dell'epoca e D'Annunzio ha giocato una parte importante dentro questa rivalità, sottraendo anche la città morta a Eleonora Duse e dandola appunto a Sara Bernard, facendo crescere la credine diciamo conflittuale fra le due grandi interpreti.